Amici, anticipazioni 11-12, Clé di critica Veronica Peparini torna, Grimaldi fuori. Nella puntata di Amici dell'11 dicembre ci saranno graditi ritorni. Le anticipazioni della prossima puntata del talent show di Maria De Filippi rivelano che Clé di e Veronica Peparini saranno presenti in studio. Per giudicare le esibizioni dei ballerini, Mattia riceverà una critica da Cadu. Mentre l'ex insegnante e coreografa farà i complimenti a Samu, nel frattempo, Ludovica Grimaldi verrà eliminata e lascerà la scuola. Nella puntata di Amici, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio dell'11 dicembre, Clé di Cadu tornerà nel programma di Canale 5, per giudicare le esibizioni di ballo degli alunni. Come già accaduto in precedenza, i giudici non hanno dato i voti palesi, ma hanno solo fatto commenti a voce. Sulle performance degli studenti. L'ex professionista del talent show ha espresso una critica nei confronti di Mattia. Affermando che, a detta sua, aveva un'espressione esagerata mentre ballava. Nonostante questo. Però, il giudice ha detto all'allievo pugliese di essere molto bravo. L'alunno di Raimondo Todaro ha danzato insieme a Francesca Tocca. Oltre a Clé di Cadu, nella puntata di Amici dell'11 dicembre, tornerà anche Veronica Peparini. L'ex insegnante di ballo del talent sarà presente per giudicare le esibizioni degli allievi della scuola. Le anticipazioni trappelate in rete rivelano che la coreografa ha espresso apprezzamenti per alcuni allievi e ne ha criticati altri. A tal proposito, Peparini ha avuto giudizi positivi per Maddalena che, a detta sua, avrebbe non solo la tecnica, ma racconterebbe anche qualcosa quando danza. Riguardo a Megan e Samu. Invece, Veronica ha detto che, se dovesse vederli ad un'audizione, non se li farebbe scappare. Mentre per Rita non c'è stata una valutazione positiva e Veronica Peparini ha detto che non prenderebbe mai la ballerina di Alessandra Celentano, nonostante sia brava. Purtroppo, nella tredicesima puntata di Amici, che andrà in onda l'11 dicembre, Ludovica Grimaldi sarà eliminata. L'allieva di Immanuel sarà fuori dalla scuola di Maria De Filippi, a un passo dal serale. Le anticipazioni trappelate in rete rivelano che è stato l'insegnante a volere rinunciare alla sua allieva. Nella prossima puntata, infatti, Ludovica non risulterà ultima nella classifica fatta da Gerisen, Veronica Peparini e Cledi, ma sarà ultima nella classifica generale, voluta da Alessandra Celentano. Nelle recenti puntate pomeridiane del programma, l'insegnante di danza classica aveva chiesto alla produzione di potere visionare i voti complessivi e la media di tutti gli allievi. Per capire chi fosse nelle ultime posizioni e Ludovica era risultata l'allieva con i voti più bassi. Immanuel lo aveva chiesto, più volte, a Grimaldi di cercare di mettere una marcia in più ma... evidentemente, gli sforzi della ballerina non sono bastati per conquistarsi la permanenza nella scuola. Musica apus currappusci, pentru el e de bun sims, se ridichi stacheta, liric vorbința, giunga la ea doar nasa, cu racheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda, ăsta-i celu, l'execut ca pe Maria Antoinetta. Daia de când mă știu, te stui plin dădude, dume redante printre dale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Obele bat cu inima, deodată nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit, și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din tot, tot MC-ul, care am crescut, pe scurt, de la un...